buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso di meccanica dei continui queste video lezioni che vi accompagneranno durante questo semestre purtroppo purtroppo per voi e per me ma cercheremo di fare del nostro meglio allora questo corso è idealmente la prosecuzione del corso di meccanica razionale no 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 scappate sto scherzando fermi fermi tutti non è veramente così lo è soltanto in parte il corso di meccanica razionale era un corso molto specifico legato alla meccanica dei rigidi mentre invece la meccanica dei continui è enormemente più varia e interessante ciò non nonostante i principi di base della meccanica dei continui sono gli stessi di quelli della meccanica razionale che forse avevano sembrati un po strani astrusi in certo che in certi casi per esempio pensate alla deformazione che adesso invece diventa naturale come nome e come come funzione e dicevo i principi sono gli stessi e si esplicheranno in tutta la sua potenza la loro potenza la meccanica dei continui è una teoria che ha avuto delle conferme spettacolari anche se non tanto osannate forse come quelle della meccanica celeste ma in realtà la meccanica dei continui copre una varietà di applicazioni enorme naturalmente tutte applicazioni macroscopiche non la meccanica dei continui non funziona a livello atomico la meccanica classica non funziona a livello atomico deve essere sostituita dalla meccanica quantistica e la meccanica classica sappiamo che non funziona neanche a livello relativistico quindi se volete descrivere c'è una meccanica dei continui relativistica ma non la tratteremo e diciamo che la meccanica dei continui è la meccanica macroscopica quella della delle scale di tempo e di dimensione di grandezza che siamo di lunghezza per meglio dire che siamo abituati a conoscere dalla vita quotidiana in realtà la meccanica dei continui può definire può descrivere bene anche qualcosa di più piccolo e più grande ma non tanto più piccolo o tanto più grande diciamo perché si chiama meccanica dei continui in inglese continuum mechanics in francese mechanique de milieu continui e c'è questa parola continuano perché fa riferimento al continuo al continuo diciamo così il modello di fondo è che questa in questa meccanica un oggetto un corpo che chiameremo finalmente giustamente un corpo occupa una regione dello spazio una regione finita dello spazio in generale e questo non è tutto perché è qui diciamo ci starebbe anche qualche cosa di più atomistico in realtà nella descrizione del continuo nel modello continuo che io ogni tanto chiamo ipotesi del continuo ma non c'entra niente quella un'altra cosa nel modello continuo ogni sotto insieme ragionevole del corpo è ancora come se fosse un corpo cioè se io vado a isolare a tagliare un pezzettino per esempio di un corpo elastico o di un fluido o di un gas io trovo ancora una cosa che è completamente analoga al corpo stesso quindi diciamo che in altre parole è qualche cosa che noi possiamo infinitamente ingrandire senza mai intravedere delle strutture diverse perché diciamo nella fisica della materia sappiamo che non è così se anche prendiamo una sbarra di metallo estremamente omogenea o un fluido molto molto omogeneo e ingrandiamo 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 a un certo punto compaiono delle strutture diverse per esempio nel caso della di una sbarra di metallo compaiono magari dei compare magari un reticolo cristallino nel caso di una roccia quindi compaiono degli atomi che sono disposti più o meno liberamente a seconda del tipo di materiale e la cui posizione influenza reciproca poi alla fine definisce le proprietà del materiale ecco questa cosa qui naturalmente è bellissima perché riuscire a descrivere le proprietà dei materiali a partire da quelle degli atomi come fa per esempio in parte la chimica fisica è spettacolare cioè ha spiegato delle cose che la meccanica macroscopica diciamo così non poteva spiegare in nessun modo lasciando da parte tutti i problemi legati più strettamente alle emissioni di radiazioni agli effetti strani fotoelettrici che sono più cose diciamo tipicamente atomiche però però con gli atomi c'è un problema o intendiamoci non stiamo dicendo che gli atomi non esistono cioè gli atomi esistono e come no lo dico perché siccome viviamo in tempi di terrapiattismo cioè non vorrei che uno pensase ah ma questo qua sta tornando alle idee di mac che diceva che che gli atomi non esistevano no gli atomi esistono e come solo che faremo di tutto per non averne bisogno cioè il fatto è il problema grosso degli atomi è che a livello macroscopico sono tanti sono diremmo oggi sono stratanti ed è impossibile umanamente impossibile cercare di di seguirli uno a uno e soprattutto di trarre una conoscenza globale macroscopica a partire dal loro comportamento microscopico lo si riesce a fare in parte con il gas perfetto con quello che che riesce a fare ed è tanto la meccanica statistica però diciamo il grande successo della meccanica statistica è riuscire a riprodurre le leggi macroscopiche della meccanica classica dopodiché uno dice va bene ma se io siccome siamo matematici in fin dei conti se io decido che quelle sono dei modelli ispirati naturalmente da altre parti della fisica io poi mi concentro su quelli lì quindi il nostro sarà un approccio modellistico infatti il modello continuo è una sorta di super modello no cioè di qualche cosa che usiamo per descrivere questi questi materiali poi vedrete che ci sarà ecco a differenza della meccanica razionale questa è un'altra differenza fondamentale nella meccanica dei continui c'è tantissima libertà cioè ci sono tantissime cose nuove che possono essere descritte che possono essere aggiunte al modello e che di fatto definiscono nuovi materiali o nuovi comportamenti pensate che la meccanica dei continui oggi riesce a descrivere con successo anche materiali biologici che sono estremamente complessi diciamo non in questo caso non su scala atomica ma su scala ben più grande eppure i movimenti della cellula oppure i comportamenti dei muscoli o vabbè oltre ovviamente a quelli dei liquidi dei fluidi come il sangue sono possono essere descritti molto efficacemente oggi dalla meccanica dei continui la quale poi resta ovviamente la pietra miliare per costruire abitazioni e ponti perché la meccanica l'elasticità particolare l'elasticità lineare anche quella non lineare diciamo è alla base della scienza delle costruzioni così come della aerodinamica e la fluidodinamica queste sono basate sulla sul modello continuo e quindi il nostro compito sarà di partire da una fondazione il più possibile generale della di questo di questa di questa meccanica e poi specificare via via cercando di spiegare bene dove fin dove si può arrivare i vari tipi i vari modelli che si possono creare soprattutto appunto cercando dove possibile per quanto non so perché non sono uno sperimentale di legare anche dove possibile questi questi modelli poi alla realtà perché per il matematico è facile scrivere abcd nei coefficienti puoi fare i conti ma questi questi coefficienti abcd tante volte devono essere devono essere determinati e per questo servono gli esperimenti di laboratorio allora dal punto di vista della così della struttura dell'esame ci saranno delle dispense ci sono i vecchi e di nuove vedrete ci sono quelle nuove che sto man mano aggiungendo anno dopo anno e quelle vecchie che sono un pochino siamo che coprono più o meno quasi tutto il materiale e che potete usare diciamo così per completare i pezzi che mancano io spero di riuscire a completare quasi tutto quest'anno ma con la storia delle video lezioni chissà ci saranno appunto poi queste queste video lezioni e ci saranno soprattutto i momenti di incontro online tipo in question time come richiamo io insomma in cui vi invito veramente più caldamente possibile a fare domande a fare domande è stupide se volete perché sono le più interessanti per esperienza so che tendete a non farle io spero che magari uno dei vantaggi di questa situazione brutta è che vi decidiate a farle perché sicuramente ne avete e io sono qui per rispondervi quindi scrivetemi anche via mail poi ci troveremo ci troveremo come detto su collaborato teams meets zoom insomma tutti quegli accidenti lì faremo di tutto per per trovarci voi sapete che questo ne parleremo a voce il corso ha due moduli diciamo così uno da sei crediti uno da nove in realtà uno da nove è quello da sei più un altro pezzo e anche questo lo chiariremo tutto l'esame sarà un esame orale chissà mai se riusciremo a fare in presenza meglio ancora e se no troveremo troveremo un modo per quanto riguarda la presentazione questo è tutto io mi faccio visto che sono solo diciamo come forse molti di voi mi sono mi sono portato pablo che mi accompagna anche nel corso di meccanica razionale e vabbè picasso era un artista e quindi sicuramente amava le cose belle tra le cose belle c'è anche la matematica magari gli faceva schifo però diciamo picasso era sicuramente una persona che lavorava con i materiali si può dire tutto quello che volete di picasso ma questo è sicuramente vero era non era solo un pittore ma creava anche sculture e sicuramente apprezzava apprezzava i materiali ecco dal nostro punto di vista faremo ovviamente delle cose meno belle di quelle che ha fatto picasso però cercheremo anche noi di dire la nostra sulla meccanica dei continui che è una materia che esiste da dal 1700 diciamo è stata diciamo per la prima volta se vogliamo creata sistema un po sistematicamente anzi diciamo non sistematicamente è stata iniziata da eulero e soltanto negli anni 40 del secolo scorso è stata un pochino sistematizzata e quindi una meccanica dei continui razionale al 100 per cento ancora oggi non si può dire che esista ci sono dei punti un po oscuri da un punto di vista diciamo così assiomatico poi vabbè uno fa dei modelli che vuol dire fa delle ipotesi se queste poi rispondono a quello che si osserva è contento però ci sono delle cosette ancora un pochino a sistemare magari non le vedremo e da un punto di vista della della struttura del programma è diciamo è quella tipica della meccanica cioè ci sarà la cinematica e poi la dinamica solo che come detto la cinematica ha qualche aggancio in più con la meccanica razionale quindi ritroveremo la deformazione e anche la deformazione rigida perché ovviamente il corpo rigido è un caso particolare di corpo continuo però e sarà vedrete una cosa veramente marginale la parte più interessante sarà la dinamica perché dopo aver visto i principi della dinamica che saranno coerenti con quelli della meccanica razionale però molto più potenti da questo punto di vista ecco visti quelli poi potremmo incominciare a parlare di esempi macro esempi ben specifici come la fluido dinamica o l'elasticità non ci sono solo queste due grandi parti della meccanica dei continui oggi come oggi come vi dicevo ci sono per esempio materiali di tipo biologico ma ci sono anche altri materiali tecnici come per esempio i cristalli liquidi come per esempio i materiali piezoelettrici come i mezzi porosi sono tutti tipi di materiali che si possono descrivere col formalismo della meccanica dei continui e che magari sfioreremo perché tutto non si riesce a fare anche in anche in nove crediti quindi io vi auguro che volete buona visione cercheremo magari ogni tanto di allentare un pochino la tensione e buona visione come detto buon corso di meccanica dei continui a presto